per liquidare anche le ritenute in detrazione ad esempio ritenuta degli infortuni o altro non liquidate nel certificato di pagamento già emesso è sufficiente effettuare la stampa di un altro certificato di pagamento dal menu stampe stampa certificato di pagamento e impostare nel campo certificato numero inserire il numero dell'ultimo certificato emesso attivare la spunta su bis accanto al campo certificato numero aggiungere la descrizione l'importo senza iva nel campo vuoto della sezione premendo il pulsante stampa non modificando altri campi già preimpostati dal programma otterremo il certificato di pagamento bis e il programma liquiderà l'importo della ritenuta grazie a tutti